Ok, allora, secondo video su Instagram TV ed è anche un video brutto perché è un video di rimprovero perché purtroppo mi sono reso conto anche oggi, prima di venire qua ad allenarmi, che ho risposto a un sacco di mail ho discusso e parlato anche con i ragazzi che sono venuti per il check e per il cambio scheda e non tutti, però la maggior parte, mi riferisco a quelli giovani, magari di giovane età hanno perso un po', come posso dire, quella che è la grinta, la cattiveria, il vero focus l'ideale del bodybuilding, cosa voglio dire? Voglio dire che non c'è più il rispetto verso l'allenamento non c'è più il sacrificio, la sofferenza, il fatto di seguire una dieta, il fatto di fare un allenamento estenuante sofferente, veramente, non è più una cosa che viene presa in considerazione i ragazzi giovani vedono le foto su Instagram, vedono i muscoli, gli addominali, vanno da un coach e quasi come se pretendessero che i muscoli li vengano mandati a casa questa è una cosa che non è possibile il coach fa un programma, ti dice cosa mangiare magari, ti dà dei consigli ti dice come allenarti, come strutturare il tuo workout in base a quello che è l'obiettivo ma a portare a casa i risultati siete solo ed esclusivamente voi, vi viene dato una linea guida da seguire, ma il bodybuilding è fatto di sacrificio, sofferenza, sudore io ho lavorato tipo 10-12 ore oggi, adesso non so neanche che cazzo di ora sia e sono qua in palestra e ci starò più o meno verso fino a mezzanotte quindi farò 3 ore di allenamento, un allenamento che mi devasta, che mi fa soffrire un allenamento che mi fa godere, perché la sofferenza per noi che facciamo il bodybuilding è godimento se non siete disposti a ricercare la sofferenza, se non siete disposti a volere un sacrificio a fare questo sacrificio, guardate, i ragazzi si stanno qua c'è la Cherry che sta pompando, sta facendo panca come un diavolo c'è mio fratello là, yeah bare, che sta spingendo, non lo vedete nell'oscurità ma esso c'è, noi siamo qua che sudiamo, soffriamo ragazzi il bodybuilding è questo, ripeto, non sono le foto dei muscoli e degli addominali su Instagram, assolutamente no quindi mettetevi già il cuore in pace e quando decidete magari di fare questa vita, sappiate che è una vita di sacrificio mi raccomando, spero di avervi un po' svegliato l'allenamento è una serie di numeri un 3x10, un 4x6, un 5x5, un 8, un 10x10 sono solo numeri a dare valore a quei numeri ci siete solo ed esclusivamente voi tirando fino alla morte, soffrendo come le bestie caricando fino a quando il limite non ci fa venire fuori il sangue dalle orecchie mi raccomando, questo sport è solo ed esclusivamente sacrificio grazie e tirate come le bestie oh Bougie saluta è incazzata, è più incazzata di me cazzo, è più incazzata di me